Musica Cordiale saluto anche dalla pagina sportiva del TG Noi. Apriamo con il calcio dunque da martedì pomeriggio la Lucchese è ufficialmente in silenzio stampa. D'ora in avanti e fino al termine della stagione parlerà solo il presidente Bruno Russo. Questo sfuma anche la possibilità purtroppo per noi come avevamo già annunciato di avere ospite giovedì sera a Curvo Ovest il direttore sportivo Daniele Deoma. Tanto la squadra prosegue nella preparazione, 4 partite alla fine e 12 punti sul tavolo verde del campionato. Chiaro che nel caso di bottino pieno tutto potrebbe cambiare. Gli avversari nell'ordine saranno Livorno in casa, Cararese fuori, Lecco al Porta Elisa e Renate il 2 maggio. Sulla carta tutto è possibile anche se per questa Lucchese pare una missione davvero molto molto complicata. Lopez, notizie dal campo, recupera Cruciani e spera di riavere anche Marcheggiani anche se le possibilità di vedere in campo l'attaccante non sono tantissime. Per il resto ormai le scelte e gli uomini sono quelli per cercare di compiere un'impresa, ovvero la salvezza, che a questo punto avrebbe davvero del clamoroso. Intanto si sono giocati due recuperi, di cui vediamo anche i risultati, soprattutto uno interessava molto la Lucchese. Renate per golettese 2 a 0 a Pistoia, Pistoiese Juventus B 1 a 1. Questo significa che adesso la Pistoiese ha 28 punti contro i 27 della Lucchese a pari partite. Scendiamo in Serie D dopo aver inviato le ultime due gare causa Covid-19. Real Forte Querceta tornerà in campo per la 25esima giornata del campionato di Serie D. La squadra Cristian Amoroso lo farà in anticipo sabato sul campo del Prato. La partita si giocherà sul sintetico di Montemurlo e avrà inizio alle ore 15. Si sono giocati due recuperi anche in Serie D. Vediamo i risultati. Corticella che ha battuto il Mezzolara per 4 a 2 e Rimini-San Maurese 0 a 2. Risultati non favorevoli alle nostre, soprattutto a Ghiviborgo e Seravezza. Lasciamo il calcio e passiamo il motore. Per i fine settimana con Rally di Sanremo, dove tra i protagonisti più attesi c'è il nostro Rudy Michelini. Saranno le potenzialità della nuova evoluzione di Skoda Fabia R5 ad accompagnare Rudy Michelini sulle strade del 68esimo Rally di Sanremo. Il pilota lucchese, reduce dalla quinta posizione assoluta conquistata al ciocco, avrà a disposizione la Skoda Fabia R5 Evo del team PA Racing, vettura che vanta gli ultimi aggiornamenti tecnici previsti dalla casa madre. L'occasione per il portacolori della scuderia Movisport di poter dare continuità di risultati a margine della conquista della terza posizione nella classifica del campionato italiano Rally Asfalto, confronto che il driver lucchese ha posto come obiettivo stagionale e che sulle strade del primo appuntamento ha confermato la bontà di un disegno e di un progetto ben strutturato. Ad affiancare Rudy Michelini ci sarà come sempre Michele Perna, parte integrante di un progetto che vedrà ancora coinvolto a Michelin per quanto riguarda la fornitura di pneumatici. Un cambio di vettura dalla Volkswagen Polo R5 che ha contraddistinto la partecipazione al tricolore 2020 e l'avvio della stagione corrente alla nuova evoluzione di Skoda Fabia R5, esemplare che nella sua versione più tradizionale ha accompagnato il forte pilota lucchese sulle strade del CIR 2019. Il 68esimo Rally di Sanremo scatterà sabato prossimo 10 aprile alle 16.15, 8 complessivamente le prove speciali che daranno il secondo risponso al CIR 2021, che come già si è capito al ciocco si profila senza dubbio come uno dei più interessanti e combattuti degli ultimi anni. È un fine settimana in cui si gareggia anche nel campionato italiano Rally Cross Country, tra i protagonisti il fornacino Andrea Lucchini, dopo l'ottimo risultato all'Italian Bahia e nella prospettiva di correre in Sardegna. Sentiamolo in questi 48 secondi. Sì, ottimo risultato alla prima gara di campionato italiano a Pordenone al Bahia nazionale, se esti assoluti, primi di T2, primi del trofeo Challenge Suzuki, quindi bottino pieno, ottimo risultato in visione della prossima gara in Sardegna, al Bahia del Vermentino che sarà la settimana subito dopo Pasqua, e l'obiettivo, logicamente, sarà quello di bissare il risultato e di portarci avanti nella classifica di campionato italiano. Ottima macchina fornita dal team Poi Luce di Roma e anche, direi, ottimo lavoro fatto dal mio navigatore, Piero Bosco, che mi ha coadiuvato perfettamente nella gara precedente. Parliamo di una disciplina di cui non ci occupiamo troppo spesso, e certamente non per colpa nostra perché dalle nostre parti non c'è grande attività, e la canoa, il rafting, in questo caso con le nazionali azzurre che si sono allenate per preparare i mondiali sulle acque del torrente Lima. Da alcuni anni le acque del torrente Lima sono diventate un'attrazione, nonché un importante punto di riferimento per gli appassionati di rafting e canoa, e questa valenza sia a livello turistico sportivo che agonistico. Parliamo della parte agonistica, dal primo al 5 aprile il Lima è stato scelto come campo di allenamento da ben sei nazionali di rafting, giovanili senior e para-rafting maschili e femminili. Gli atleti provengono tutti dal nord Italia, ma in questo periodo i loro torrenti sono poco generosi di acque, mentre il Lima, grazie anche alla collaborazione di Enel, ha offerto le giuste condizioni per allenarsi con cura e preparare in modo adeguato i campionati del mondo che si svolgeranno in Francia a fine giugno. Sicuramente siamo venuti qua sulla Lima perché è un fiume molto bello, ha acqua in questo periodo perché trovare l'acqua in Italia adesso è difficile, nell'Appennino invece è ricco di acqua, abbiamo la betone che ci porta sicuramente un quantitativo acqua sufficiente per allenarsi. È un fiume che per questo momento per la nostra preparazione va bene, perché dobbiamo lavorare sulla quantità e cercare di limare i punti ancora deboli per le squadre. Cinque giorni intensi per i 26 atleti convocati dalla Nazionale, appartenenti appunto a sei nazionali distinte, particolare attenzione è stata riservata alla disciplina Rafting RX che vede le formazioni giostrarsi intorno ad ostacoli artificiali, mentre l'ultimo giorno è stato dedicato alla discesa lungo un tratto di 11 chilometri molto duri e selettivi. Il team azzurro per questa trasferta in Val di Lima si avvalso della collaborazione del team locale Rock Honda che ha sede appunto in Val di Lima. Oltre alle nazionali femminili e maschili, anche la formazione para-rafting che guarda al futuro con grande ottimismo anche in ottica e ridata. La nostra squadra si allena per i prossimi campionati del mondo che si interranno a giugno in Francia, attendiamo le convocazioni e speriamo in bene. Al termine del ritiro tanta soddisfazione da parte del team azzurro per l'ospitalità ricevuta anche in un periodo tanto complicato. Ciò anche per merito della stretta collaborazione, 30 locali ed Enel che hanno favorito un'eccellente promozione del territorio. Assolutamente sì, vediamo sul nostro territorio tante persone che vengono da fuori quindi diamo sempre una bellissima immagine e soprattutto questa è un'occasione per vedere la collaborazione tra l'amministrazione, le associazioni locali e soprattutto anche Enel che dobbiamo ringraziare per la sua sempre attenzione verso il nostro territorio. È tutto per la pagina sportiva, una breve pausa e poi il TG prosegue con la terza ed ultima parte. Grazie.